buonasera a tutti eccoci qua stasera vi volevo parlare dell'analisi transazionale nei precedenti video ho parlato della delle delle dipendenze delle dipendenze relazionali delle dipendenze affettive e dei conflitti che si possono instaurare nelle relazioni tra le persone l'analisi transazionale ci può venire in aiuto essa si ispira alla teoria di Freud ed è stata introdotta da uno psicologo che si chiama Eric Bern che cosa sostiene? si ispira alle tre istanze dell'ego di Freud cioè l'ess l'io il superio l'ess rappresenta gli istinti quelli che abbiamo fin dalla nascita le pulsioni quelli che sono incontrollabili che non sono dirette inizialmente verso oggetti particolari poi cominciano a diventare relazioni oggettuali poi c'è l'io che è l'istanza che invece è atta alla riflessione ragionamento all'adattamento della delle persone alla propria realtà ed infine il superio che sono tutte le introdizioni che derivano da le norme sociali i regolamenti la famiglia la cultura di appartenenza per Freud appunto l'io deve equilibrare queste due istanze contrapposte che sono quelle dell'ess del superio per l'analisi transazionale esistono tre stati dell'io l'io bambino l'io adulto e l'io genitore che rappresentano in qualche modo le istanze di Freud ma un po' diverse sono si integrano diciamo tra di loro e possono entrare in conflitto come succede con Freud anche nei rapporti con gli altri l'io bambino è l'io che abbiamo fin dalla nascita quindi contiene i nostri desideri le pulsioni impulsi e poi c'è l'io adulto che anche quello quello riflessivo che ha l'esame di realtà e quindi cerca di bilanciare le esigenze dell'altro io e l'altro è l'io genitore che sono le norme sociali che ci vengono imposte e che in qualche modo entrano in conflitto con l'io bambino quindi compito dell'io adulto è di bilanciare queste due istanze conflittuali e le persone poi nel relazionarsi con gli altri cominciano ad adottare dei copioni di vita cioè ci sono degli script delle transazioni che avvengono con gli altri ognuno ha le sue modalità privilegiate di entrare nelle transazioni con gli altri facendo emergere o a volte più l'io bambino a volte più l'io genitore che possono diciamo instaurare anche dei conflitti con le persone e si creano diciamo quando c'è un conflitto tra due persone si può creare quello che viene chiamato triangolo drammatico triangolo drammatico consiste in tre ruoli tre stati dell'io esagerati perché a volte tra gli stati dell'io ci possono essere delle contaminazioni quando uno stato dell'io prevale sugli altri per esempio l'io bambino potrebbe essere usato per le relazioni affettive e rapporti sessuali se invece durante il rapporto sessuale facciamo intervenire più l'io genitore quindi che regolamenta tutto che stabilisce tutto come deve essere svolto il rapporto sessuale perde la sua autenticità e quindi rischia di diventare problematico questo è un esempio di contaminazione le contravenzioni possono essere eccessive e a portare a tre ruoli che vengono evidenziati dal triangolo drammatico e sono la vittima il persecutore e il salvatore la vittima ha un atteggiamento passivo e timoroso verso la vita e si sente sempre perseguitato da qualcuno che può essere un ente astratto un'istituzione oppure anche persone specifiche può pensare che le persone ce l'hanno con lui che lo prendono in giro che insomma vogliono fargli del male quindi ed è entra in questo loop in questo gioco per cui tutti ce l'hanno con lui tutti lo perseguitano insomma si sente vittima il il salvatore invece è quello che vuole sempre salvare qualcuno vuole farlo uscire dalla sua condizione di disperazione quindi il salvatore ha bisogno di una vittima quindi ogni ruolo al suo ogni ruolo ogni stato dell'io anche perché non è proprio ruolo perché i ruoli poi sono anche intercambiabili ogni stato dell'io al suo complementare quindi per una vittima c'è anche il persecutore e c'è anche il salvatore il persecutore invece quello che è sempre giudicante che sta sempre a valutare a valutare misurare gli altri fino anche a fargli del male psicologico anche del male fisico può arrivare e poi c'è appunto il salvatore vi hanno detto che invece vuole sempre salvare qualcuno e senza preoccuparsi più di tanto di se stesso quindi si dedica più agli altri che ai pro che risolve problemi degli altri che a risolvere i propri problemi e nel triangolo drammatico per come è stato evidenzato da Carpan ci sono proprio dei copioni che si ripetono che possono anche però invertirsi a un certo punto per esempio il c'è una vittima che appunto comincia a lamentarsi di essere vittima di essere e trova un un salvatore quindi una persona che decide di aiutarlo di salvarlo di dedicarsi a lui per cercare di salvarlo quindi diciamo che in questo gioco ci sono due persone il per esempio il persecutore è invece una persona esterna o un'istituzione o insomma qualcun altro che sta perseguitando questa povera vittima e quindi che succede il salvatore cerca di aiutare la vittima di salvarla di fare di tutto per venire l'incontro per aiutarla a uscire dai suoi problemi da come si sente ma la vittima non riesce non è capace di uscire dal suo stato di vittima e quindi a un certo punto il salvatore si sente frustrato si sente inadatto si sente incapace di aiutare la vittima in difesa e anche la vittima entra in uno stato tale di frustrazione che a un certo punto può diventare o il persecutore del salvatore oppure oppure può entrare in un altro stato psicologico però di solito succede che la vittima diventa il persecutore del salvatore e il salvatore a sua volta diventa la vittima quindi i ruoli si in qualche modo si scambiano oppure non so il salvatore a un certo punto rendendosi conto che non può salvare la vittima diventa il suo persecutore quindi comincia a prendersela con lui a entrare in questo loop perché la vittima poi si presta a essere vittima quindi chi non riesce a salvarla poi diventa a sua volta il suo persecutore poi la vittima magari usa delle strategie per fare sentire in colpa il il salvatore quindi il salvatore inizia a tormentare la vittima diventare il suo persecutore quindi ci sono questi giochi psicologici infatti berne aveva proprio scritto un libro a che gioco giochiamo perché sono come dei giochi di tipo nevrotico dei giochi psicologici che si instaurano e che prendono a un certo punto una certa fissità quindi prima sono in un certo modo poi diventano in un altro come si fa a uscire da questi giochi psicologici che subentrano nelle relazioni di coppia nelle relazioni affettive anche genitoriali nelle relazioni amicali a volte nelle relazioni lavorative quindi possono possono avvenire in ogni contesto queste situazioni quando sono fissi diciamo la vittima è vittima in vari contesti ok quindi si entra in questa situazione estrema come si fa a uscire da ciò allora intanto il persecutore deve in qualche modo come dire cercare di essere più assertivo che che perché poi ci sono l'assertività è una posizione centrale quella che dovrebbe assumere l'io adulto che si rende conto che queste posizioni che assume questi stati dell'io sono transitori non devono essere una dimensione esistenziale e quindi deve farsi per esempio il persecutore deve farsi un esame di coscienza cercare di essere più assertivo che aggressivo a sua volta la vittima deve cercare anche lei di essere più assertiva che passiva ok quindi ci sono queste queste dimensioni estreme che devono cercare di diventare più mediane il persecutore per esempio deve cercare di essere più empatico ovviamente verso gli altri ma questo anche la vittima cercare di ragionare sul suo ruolo di vittima sono veramente vittima oppure sono io che mi sento tale e devo cambiare il mio modo di rapportarmi con gli altri in modo da non atteggiarmi da vittima di non fare perché poi la vittima rimprovera gli altri di essere una vittima e quindi a sua volta gli altri prima si sentono frustrati ma poi si rendono conto che non riescono a fare niente quindi entrano anche loro in questo gioco di fare il persecutore o il salvatore quindi per ogni ruolo c'è per ogni stato dell'io c'è il suo complementare cioè parla proprio di gancio e di anello il gancio se non trova un anello a cui attaccarsi non funziona e quindi perde la sua funzionalità diciamo la sua efficacia e quindi come avevo detto anche nell'altro video le relazioni di dipendenza non sono mai di una sola persona sono sempre diadiche c'è sempre uno che esercita un ruolo e quell'altro che esercita il suo ruolo complementare quindi bisogna in qualche modo riuscire ad uscire da questi ruoli questi ruoli da che cosa derivano la vittima per esempio il persecutore a sua volta magari è stato vittima a un mio bambino che è stato tormentato quindi l'ha rimosso nell'inconscio perché il bambino inizialmente è un bambino libero come dice Berne poi dopo se ci trova un genitore critico un genitore normativo può diventare o un bambino adattato quindi un bambino per esempio un professorino un bambino che aderisce a criticamente tutte le regole oppure un bambino ribelle un bambino ribelle che quindi esercita la propria aggressività sugli altri per evitare di essere aggredito e quindi diventa magari persecutore se esercita se questa funzione viene viene esercitata in tutti i campi in maniera fissa e quindi il suggerimento chi è analizzare il nostro esperienza infantile e che cosa ci ha quali stati dell'io sono predominanti a causa della nostra esperienza infantile se abbiamo per esempio un bambino che è stato tra virgolette maltrattato trascurato e quindi l'abbiamo diciamo rimosso nell'inconscio siamo diventati molto più normativi dobbiamo cercare di guardare questo bambino parlare con questo bambino e anche Berne parla di carezze di affettuosità quindi se non abbiamo avuto per esempio un genitore affettuoso perché gli stati dei genitori sono l'io genitore può essere di due tipi un genitore critico normativo o un genitore affettuoso che dà amore carezze affetto quindi se non abbiamo avuto questo genitore siamo noi che dobbiamo introiettare con questo genitore e accarezzare il bambino che è dentro di noi sembra una roba da matti però se ci pensiamo potrebbe essere un modo di volere più bene a noi stessi non proiettare verso l'esterno i nostri disagi che abbiamo rimosso nell'inconscio perché così succede nella proiezione noi abbiamo delle sofferenze interne che proiettiamo all'esterno e quindi magari diventiamo aggressivi verso gli altri oppure non le proiettiamo le introiettiamo dentro di noi diventiamo passivi quindi si tratta di ritrovare quel bambino dentro di noi che ha sofferto per qualche motivo cercare di volerli bene e cercare di fare in modo che possa dialogare con il genitore che anche lui è dentro di noi quindi il genitore può essere genitore critico genitore affettuoso se il genitore critico deve deve bisogna rivalutare l'io bambino che abbiamo dentro di noi e fare in modo che dialoghi con questo genitore critico per diventare un genitore più affettuoso certo le regole sono importanti però bisogna anche che queste tutti questi io che abbiamo si bilanciano in qualche modo adesso non so esattamente vi ho dato qualche spunto magari ne parlerò in altri video perché stasera non sono particolarmente ispirato volevo solo darvi qualche spunto sull'analisi transazionale e sull'importante di considerare queste istanze che comunque ci sono dentro di noi le ha trovate freud le hanno trovati tutti i post freudiani la psicologia dell'io la psicologia del sé tutta la psicologia degli indipendenti tutti quelli che sono venuti dopo freud comunque hanno criticato freud l'hanno superato però hanno riconosciuto che alcune sue teorie sono valide come quelle delle tre istanze che abbiamo dentro di noi del superio e dell'ess e dell'io quindi l'io deve riuscire a dialogare con le altre due istanze e a comunque farle valere entrambe perché sia l'io bambino che il mio genitore sono importanti per il nostro adattamento alla realtà arrivederci a tutti